E se vi è giunto tutto fatto Questo discorso mi ha convinto Tanto di cappello Ehm, non è, no, è occhio, ero contro gli og, eh Senza, se non sei contro gli og, ci può stare come azione Ah, infatti so, dammi, dammi sto cacciatore, dammi, dammi la coppia, dammi la coppia In teopi avete scommesso, in teopi, in teopi, in teopi, in teopi Ah, patata, ah, ah, è riscatato il coaching Ehi, la, grande, 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 poi si fa, si fa, si fa Ti vieni a due mozzi La tua mozzi è evidente Porco cazzo Ehm, va bene, è lo stesso Non è un problema Non è un problema Va bene, è lo stesso Io livellassi Io voglio fare la C in questa table Ma non è sai che forse mi fa comodo Forse Forse c'hai ragione tu Però, posteriore, è meglio toglierlo adesso Lo slot, hai capito? Quindi mi stai dicendo E puoi dirlo, Woody non sbaglia mai 6-8 è pulitissimo C'è anche la tazza per Bianna successiva Splendido Va, ha anche colpito il mozzo Ma vai da là Ezz 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 Eccoti Come va là fuori? Abbiamo anche lo vet Potremmo anche fare Vendo Mi hai giocato con pochi pezzi Che pezzo di fan Mi ha dato il mollo Chello Scemo Ripto peito GG, Woody Ai 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 Io qua livello è troppo clean E mancano elementali bestie Quindi purtroppo Non è che proprio sia la build in forse La build migliore Eccolo 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 Fai reggino Me lo piglio Non è anche questo shop Per quanto Benedizione di Brand Potrebbe essere molto figa Proviamola Io lo dico sempre Fai le cose in grande O non farle affatto Io ho visto La vera fine Del tempo Non credo di volere lo scagnozzo Mi sembra un po' inutile C'è un altro fastidio Ecco bene Dai Il veleno qua Non mi piace per il momento Io dovrò togliere Adesso devo togliere Probabilmente il cacceriere Sarebbe i trader Che si è sparato Johnny Gripio Veleno Veleno Perché lui è molto grosso Quindi andare a spendere Adesso 3 gold Per lui Che è un pezzo Grande Non credo ne valga la pena Lui non mi piace Lui non mi piace Lui mi piace Lui mi piace Anche io avrei scelto quello Lui è ok Si potrebbe anche giocare due murillo Che togliere quel pirata de merda Diciamocelo Io lo fai Oh Io lo dico sempre Fai le cose in grande O non farle affatto C'è lì Ok Ok Lui c'è molto Eh Un paio di voi Lo glitengo Non so se teniamo Né un altro Ancora Non puoi restare Ciao pallone Buon giorno Buonasera I tuoi servitori Hanno davvero dato tutto Non voglio livellare Non credo a lui Ce ne sia bisogno Eh Probabilmente tolgo lui Potrei togliere in foresta In realtà adesso Ok Non è il più forte Ma combatterà con lui Ok Il profilo di Amalgadone Sarebbe stato meglio Ma Insomma Eliminare Omu Mi piace Mi piace lo stesso Eh Se per caso lo elimino Non c'è gusto uguale Se non muorebbe Anna È fatta È fatta È eliminato È eliminato È eliminato È eliminato È eliminato Top 3 Meglio a soldare Una recluta Finché puoi farlo Dopo 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 Giochiamocela così Invece ha messo Bumper Inforester Diamine Preferivo Bumper Burn I tuoi servitori Hanno davvero dato tutto Vai Io voglio Per la luce Sarca Mi sembra Cosa migliore Lui Pro Medio Lui Aveva Amalgadoni Nadina Non è un brutto Fine Tu Io lo dico sempre Fai le cose in grande O non farle Affatto Visto la vera Fine Dei tempi Chi sa quali segreti sveleremo Ok La vittoria in pugno Sei in prima posizione Che cazzo è ora Che beauty Ok Lui ha un Calegos Secondo me Vinciamo noi Alla lunga Contro di lui Ma questo potrebbe Darmi una tripla Alla lunga Grazie a tutti. Grazie a tutti. Poi faccio così, potremmo fare così. Vero? Non è semplicemente 6, non è che sia alto. Eh no, perché due volte... Non mi sembra tutto questo coragno. Lo faccio così? I tuoi servitori hanno davvero dato d'uso. Guarda, mi dai. Oh, si fa giocare. Chissà quali saranno le conseguenze. però io ti parla di lui mito è stato divertente non è che perdiamo anche addirittura e lì stia contro lui è completamente inutile è un pezzo proprio inutile adesso siamo molto più grossi di lui meglio Nadina, molto meglio Nadina metto Nadina seconda e si vince ok ok uh uh ah ma questo io non gliel'ho dato scudono adesso non mi ha detto niente scordati da una luce, donna la tua rabbia che vedete ho gli incredibili c'è un'altra Nadina ma ce l'ho già una Nadina a me la piglia non si sa mai che è il tuo è una parte tua di amante o tuve è una parte tua è una parte tua Vieni... Già mi ho saputo la candora. Che vero, sta la situazione per te. Ma è già diventato Caltuzato Non ho voluto neanche vedere Neanche vedere il fight Ma che brutto Che brutto gesto Che brutto gesto Mi è piaciuta questa partita Mi è piaciuta Mi è piaciuta l'avevo detto A presto